Ecco qua, benvenuti a tutti quanti voi. Benvenuti, ci sono varie persone oggi che sono venute, grazie a Dio, varie persone. Siamo qua riuniti per le telefonate, viva voce. Abbiamo qui anche ragazze che si stanno dando da fare, ragazzi e persone in tutti gli angoli. In tutti gli angoli ci sono persone, grazie a Dio, persone che cercano lavoro, persone che sistemano le pizze. Grazie, bravissima signora. Vediamo le persone che vanno e che vengono, persone che sono qui per la ricerca di lavoro, per mangiare bene. Mangia bene, parla bene. Benissimo, grazie. Grazie a tutti quanti voi. Venite, venite voi che cercate lavoro. Benissimo, vediamo quello che possiamo fare qua. Chi è che cerca lavoro qui? Alzi la mano, venga. Venga dentro, venga. Ecco qui, adesso diamo la lista lavoro per queste brave persone. Bisogna avere un po' di pazienza. Con la pazienza tutto si risolve. Vediamo quello che il Signore ha preparato per noi oggi con i vari cibi, cibi succulenti. Ma non solo i cibi, ma soprattutto il cibo spirituale. E grazie a Dio. Grazie a Dio. Tra un po' ci saranno i tre momenti di preghiera, tre momenti di studio biblico e domande e risposte.